Ciao a tutti, siamo la SD Moving Emotion, un'associazione calabrese affiliata a WISP per la diffusione di ria arrampicata, escursionismo, tiro con l'arco e da quest'anno anche cicloturismo. È un posto davvero speciale, costeggia il fiume Amato e si possono ammirare i quattro mulini risalenti al 1800. È stato davvero un lungo lavoro, è duro lavoro ripulire e bonificare il posto per renderlo accessibile, ma ne è valsa la pena. Ora è diventato un percorso non solo da trekking, ma anche turistico. Proprio in questi luoghi cerchiamo di far comprendere ai visitatori, grandi e piccini che accompagniamo periodicamente lungo il tragitto, quanto sia importante avere cura del territorio, di come e quanto possiamo noi umani tutelare e mantenere il nostro ecosistema. Abbiamo in mente grandi progetti che abbracceranno sport, cultura, società e ambiente. Crediamo fermamente che fare rete sia l'unico modo per capovolgere il futuro. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno seguendo e tutti coloro che credono in un mondo migliore ed ecosostenibile. Crediamo che questa sia la strada per il futuro dei nostri figli. E come dice un vecchio proverbio indiano, non ereditiamo la terra dei nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli. E su queste parole vi salutiamo, ricordandovi che la Moving Emotion vi aspetta per le attività, idee e progetti da fare insieme. Ciao amici, seguiteci! Grazie a tutti!